benvenuti in un nuovo video ragà fa caldissimo e oggi è 13 settembre stiamo letteralmente grondando e sono le 8 di sera e noi stiamo iniziando a registrare i video solo per voi siamo appena rientrate a casa siamo andati un po dall'idol un po curiosare quindi non ci fate caso le nostre condizioni eccoci qua con l'appuntamento mensile del mese di settembre è arrivata prestissimo con degusta box ovviamente vi ricordo che se non avete mai acquistato potete ricevere la vostra prima box al sol 9 euro e 99 usufruendo del codice link non mi ricordo manco più che cos'è che troverete giù nell'info box ovviamente dal momento in cui vi acquisterete a me accreditano 100 punti quanti punti erano 50 50 punti ma la stessa cosa capite succederà anche a voi dal momento in cui acquistate condividete lingua migliora e sono stata chiara sì iniziamo subito raga ogni spostamento è un litro d'acqua di sudore cioè non si può immaginatevi di registrare in una stanza completamente sempre chiusa con i balconi sempre chiusi che non passa aria grazie ma adesso è back to school prega ha già visto una super novità biscottosa inizia con la O le macine dell'oro le frolle dell'oro saiba con panna fresca anche se mi avete detto che queste cacao sono fenomenali anche se mi avete detto che queste cacao sono fenomenali sono fenomenali prego vabbè la pariente buonissime grazie la vedo bella farcita bella farcita bella vera mmmm interessante Kellogg's barretta mandorle e cioccolato buono aspetta noi troviamo un altro sempre della Kellogg's eh ma non mi ricordo comunque le proveremo insieme bella mmmm risotto alla meneria milanese Knorro nuovo più cremoso wow questo è bello al lavoro 12 minuti mh e di mo queste cose saranno utili bella secondo me la provare sono curiosa pure io una mattina se lo faccio mentre che mi preparo 175 grammi per due persone due persone si può fare e pesca a pesca tutti un pezzo di latte? no dolce di natura pesca mango mix l'abbiamo provato pesca e mango mix pescante mi piace oh si quello lì no quelle le facevamo separati pesca e mango questo è un mix vediamo famo due risetti no pes mutti ragù ragù alla mutti no ragù è un ragù mmmm quello che mi spira eccolo qua con gli spaghettoni la da provare ma stanno i pezzi di pomodoro vabbè ragù penso i pezzi di carne è quasi finita cos'è ma iniziano tutte i cosi di brodo cuore di brodo vegetale pronto due litri da diluire in due litri ma ci sono quattro sì penso di sì 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 quattro comunque brodo di base sempre il droppone dicono questi già sono usciti erano i cornelli ma erano altre due prima果 di classe ma non sono cornelli sono papottini al cioccolato r�� di italiano con uova da gallina levata a fine. Questo è scaldato però, vai nel prossimo video assaggio, super sfogliato questo la mattina nel cappuccino. Adoro, questo è il prossimo video assaggio, lo proviamo. Armando, la pinna liscia a noi è proprio la pasta liscia che non ci piace. Fateci sapere, questa è pasta liscia, pasta rigata, mezzo chilo, bella questa mistera. Però la possiamo fare con l'amore. Ultimo. Per ultimo. Fa nastro? No, peroni. Peroni, nastro azzurro, 00, questa è una birra analcolica. Per me, a che non reggo l'alcol. Ultimo. Che cos'è? Chips di riso integrale con sale marino o gallo. Ah, questo devo portare. Adoro. Interessante. Ragazzi, questa box si sta riprendendo, vero? No, ma proprio in generale. Cioè, qua puoi fare una challenge? Cioè, benissimamente. Ma non le puoi fare più. Però, guarda. Cioè, di tutto. Il risotto, la pasta, la barretta. Sabato è sabato, però posso registrare. Guarda, secondo me è una bella idea. Ok, ragazzi, forse ritorniamo proprio con la challenge dei Gustavox sui 24 ore. No, ma guarda, si sarebbe preso, eh? Secondo te qual è la cosa del giorno? Del mese? Nella ceresbe. Secondo me il succo sampa. No, le penne. Allora, box di settembre approvata. Approvit. Era da tanto tempo che non era così variegata. Ma pure la birra. Allora, riso gallo gallo chips, 1,10 euro. Peroni, nastro azzurro. Penso, paprika. No, hummus. No, no, no. Paprica, sì. Peroni, nastro azzurro, 1,19. Panno cioccolato, 3,79. Ragù mutti, 2,49. Il prodotto del mese è la pasta Armando, penna liscia, 1,49. Kellogg's, barretta, 3,19. Oro saiva, le frolle, 2,29. Risotto, knorr milanese, 2,09 euro. Cuore di brodo vegetale, knorr per 4, 1,89. E il succo di frutta santal, 1,79. Ci sono. Ragazze, ci siamo appena accorti di una cosa. Fermi tutti. Calendario dell'avvento. Calendario. Aspetta, che regaliamo tutti questi QR. Oh, pochissimo, 36 euro. È sempre così, buono, andiamo subito a prendere. Sì, sì. Andiamo subito. Traudiamo? Che bello! Natale, è stata riuscita. Ok, ciao!